Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni di Otondo, dal santuario di San Pio, da questo straordinario, bellissimo complesso religioso. Oggi vogliamo raccontarvi qualcosa di come sempre straordinario, ma noi non facciamo altro che riportare i fatti, sono i suoi confratelli che parlano, ovvero scrivono e ci riportano alcuni episodi, ecco i confratelli di Padre Pio da Pietrelcina. Padre Alessio racconta che un giorno entrò nella cella di Padre Pio per accompagnarlo in sacrestia, perché era l'ora di scendere e confessare, gli uomini erano circa le 14. Appena aprì la porta della stanza per chiedere a Padre Pio di scendere, lo vide con un viso quasi estasiato, luminoso, aveva un viso bellissimo, scrive Padre Alessio, tutto cielo, una bellezza unica, indescrivibile. Riporta queste parole. La sua carne, già rosea, scrive Padre Alessio, emanava luce, aveva un aspetto sempre più giovanile, strano ma era proprio così. Una volta usciti dalla stanza, si avviarono verso la causura, quella rampa di scala che porta giù nella sacrestia della chiesetta antica e Padre Pio ha quasi un malore. Comincia a barcollare, lo vide in faccia e si accorse che il suo aspetto era mutato, aveva il volto scavato come quello di un crocifisso, il suo passo diventava sempre più pesante. Padre Alessio racconta che diventava quasi difficile sostenerlo, quasi stesse cadendo e cominciò a chiamare gli altri confratelli, datemi una mano Padre Onorato, chiamo proprio Padre Onorato che si precipitò per sostenere Padre Pio. Padre Alessio appoggiò Padre Pio con le spalle al muro per sostenerlo perché effettivamente stava per cadere. Un po' ripresosi da questa situazione, Padre Pio dice non portatemi in cella, devo andare giù a confessare in sacrestia. Quindi lo accompagnarono in sacrestia, ma con grande sofferenza lo fecero accomodare la sua sedia nell'angolo dove si tirava la tendina, tirarono la tendina, gli fecero prendere un po' d'aria, non fecero entrare nessuno, nella sacrestia non c'era nessuno. Nel momento in cui tirarono via la tendina, ascoltarono Padre Pio che parlava, diverse parole tra le quali da quanto tempo non ti confessi? Perché i frati si guardarono tra di loro, ma qui non c'è nessuno e poi ancora altre parole. Allora al termine di questo piccolo momento dirai 5 pater, 4 ave, Maria e 2 glorie al Padre. Dopodiché i frati aprirono la tendina, trovarono Padre Pio che quasi un po' rasserenato, stava un po' più tranquillo e gli chiesero dicono Padre possiamo riaccompagnarti in stanza perché tu non stai bene e lui ha consentì, ma nel momento in cui lo stavano riportando sopra, già alle prime scale che faceva Padre Pio quasi, scrive Padre Alessio nelle sue memorie, ringiovanito e con un sorriso tra le labbra si riprese. Padre Alessio raccontando questo episodio conclude di questa particolare confessione che era stata fatta da Padre Pio probabilmente in bilocazione. Grazie a tutti.